Rientro nella normalità tutt'altro che tranquillo all'indomani dell'ondara di gelo che ha portato freddo e neve sul centro Abruzzo. È stata una mattinata all'insegna dei disagi per studenti e famiglie che hanno raggiunto i plessi scolastici per la ripresa delle attività didattiche all'indomani delle festività natalizie. Viabilità nel caos in via Dalmazia, due passi dalla scuola Capograssi. È stata un'impresa trovare i parcheggi anche nei pressi del liceo scientifico Enrico Fermi e nell'ex CESCOT dove sono collocati gli alunni della scuola primaria Lombardo Radice. Le temperature gelide della notte non hanno agevolato il rientro regolare a scuola stando alla mappa delle segnalazioni che ingloba anche le temperature rigide che si sono registrate in alcuni edifici scolastici della città. Uno su tutti la scuola primaria Lola di Stefano, mentre altrove la colonnina di Mercurio segnava 10 gradi in classe. Tanto è bastato per scatenare le prime polemiche con i genitori che già da ieri avevano espresso perplessità sulla riapertura delle scuole a fronte di lastre di ghiaccio che si sono formate in alcune zone, anche in ragione del consueto abbassamento delle temperature in nottata. Ma è stata anche la giornata delle cadute libere, proprio per il ghiaccio che si è formato nella notte in alcune strade secondarie. In piazza Tenente Iacovone un signore è caduto e si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Il piano neve quindi scivola sul ghiaccio. Non è senso che non ha funzionato. Ognuno tiene a suo operato ed è quindi giusto per noi che in questi giorni siamo scesi strada e non rimasti dietro un PC, menzionare alcuni disagi che sono palesi. Getta acqua sul fuoco l'assessore comunale e la protezione civile Antonio Angelone per difendere l'operatore del comune che deve fare conti anche con le risorse a disposizione. Sono stati spesi 40.000 euro disponibili. In questi giorni, come spiegato da un datg, la circolazione è stata libera nelle strade principali, ma anche nelle periferie e nelle frazioni, fatta eccezione di alcune stradine secondarie, dove i mezzi comunali hanno fatto fatica a transitare, o per forza di cose non sono passati in tempo. Si è riscontrato comunque qualche problema di circolazione in alcune zone, in quanto nel momento in cui è stato effettuato l'intervento programmato di rimozione della neve, Ai lati delle strade, fin dalla prima nevicata, erano parcheggiate auto mai spostate che hanno ostacolato le operazioni, interviene Angelone, non senza rimarcare che è giusto segnalare un disagio. Ma se ci si diverte per ipotetiche manie di protagonismo, si rischia di creare inutili disservizi alla cittadinanza. Ringrazio per la collaborazione che ha assunto il buonsenso. Il nostro obiettivo era consentire il ritorno a scuola ed è stato raggiunto. Intanto si sta continuando a lavorare per risolvere le problematiche. Quanto alle aule fredde, secondo Angelone, il problema si è verificato con l'abbassamento delle temperature di questa notte, perché la ditta convenzionata con il Comune aveva dato ieri delle rassicurazioni.